Non avevo mai visto un umano così da vicino. L'unico modo per avere ciò che vuoi è diventare anche tu una creatura umana. Saranno guai se vengo a sapere che sei salita un'altra volta in superficie. Mi sono spiegato! Sei quella che stavo cercando. Come ti chiamo? Quello che voglio da te è la tua voce. Eri tu sin dall'inizio. Oh, Eric, avrei tanto voluto dire. Sei bellissima. Quanto sentirò la sua mancanza, Sebastian.